Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio di GiocoGiocoMinecraft Siamo alla puntata 39 e come vi avevo detto avrei iniziato questo episodio all'interno del tunnel degli iscritti perché ho fatto ritorno dalla caverna dove avete visto che ho recuperato un po' di diamanti e tante altre cose Quindi iniziamo subito con aggiungere nuove persone Allora, ad AW Booster 44 ho cambiato il blocco, io ho messo la Glowstone quindi spero che sia contento Poi abbiamo delle nuove persone, ovvero GIL2508 che voleva un blocco di carbone, benvenuto Poi abbiamo Dicio con un blocco di argilla gialla che più che gialla sembra quasi arancione Comunque benvenuto anche a te Dicio e poi abbiamo Iembolo con un blocco di TNT Mi viene da ridere perché è un mio amico quindi mi fa strano vederlo qua in una cosa che faccio in Minecraft Comunque benvenuto Iembolo, benvenuto a tutti voi Ora vi... ho sentito dei rumori strani... No, mi sono spaventato E ora passeranno in sovrappressione, come si dice Alcune fan art Una è di Marco Contarin Che mi ha fatto una scritta Appunto gioco sporco Ti ringrazio Marco Molto carina Poi abbiamo Acalappia Zombie DJ Che mi ha fatto una pixel art E ringrazio anche te Quindi siete stati veramente simpatici a mandarmi queste cose Ora ci ritroviamo in casa perché vi faccio vedere altre cose interessanti A dopo Bene, rieccomi in casa Come vedete là c'è la nostra piramide rovesciata completata Ma tra un po' ve la faccio vedere Ok, siamo in casa E ora vi mostro tutte le cose che abbiamo recuperato negli scorsi episodi Durante l'esplorazione in caverna Ovvero sotto la miniera abbandonata Allora abbiamo del carbone, parecchio carbone Della pislazzoli Non moltissimo ma è sufficiente Della pietra rossa Tantissimo ferro che mi prendo e porto a cuocere Ok, poi come avete visto Ho preso in totale 24 diamanti Che è un record mondiale Sì è un record mondiale in questo mondo Di gioco gioco a Minecraft Quindi è un record mondiale Sì E con questi magari quest'oggi potremo fare qualcos'altro Ora possiamo cominciare a fare qualche pezzo dell'armatura Boh, non lo so Magari ve lo propongo a voi Così nel prossimo episodio Mi dite quello che volete che incanto Dai, facciamo così Allora E... Intanto vado a dormire Bene Poi Vado Alla nostra Fucina Così Faccio cuocere Oddio Quanti mob Ok Ok Direi che Possiamo Un attimo Liberarci di questi mob Ok E Continuiamo Perché qua Allora Abbiamo detto Facciamo cuocere un po' di Queste cosette qua Darsi che bastano Vabbè Se non bastano poi torno Così intanto vediamo quanti Quanti livelli ci dà Bene Fatto questo Ora Intanto Ho fatto dei cambiamenti Al Sentierino Che porta verso casa Ho mischiato Sia la cobblestone Che i mattoni di pietra E la ghiaia Mi piace tanto l'effetto che fa Bene Allora Questa è la nostra Piramide Rovesciata Pupupu Pupupupu Spero piaccia anche a voi Non ci è voluto Moltissimo Per farla Ma Neanche Così poco E Come vedete Se voi Vi buttate da qua In teoria Non dovreste morire Tu 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 Opla Si blocca Perché Non l'ho ancora capito Ma Comunque si blocca Lì Quindi non Non dovreste morire Proprio male Ve lo rifaccio rivedere Poi Qua sto ancora finendo Di decorare Il tunnel che porta all'esterno Guardate dove va a finire Il Nostra Nostro buco di uscita Nostro tunnel di uscita Tra l'altro ho sentito Anche dei mob Vabbè Chissà dove sono Guardate dove porta Opla Ci sono anche degli scalini Alla nostra fontana Quindi proprio a fianco L'uscita E Vai Vi faccio rivedere Questo è l'effetto Ecco Perfetto Centrato il centro Benissimo Presto rilascerò Un nuovo download Della mappa E Così Potete Godervi appieno Le nuove strutture Soprattutto la piramide rovesciata E L'XP farm Completa A proposito di XP farm Ora vi ci porto Perché Come vi dicevo Volevo fare una pixel art Ma vorrei proporla a voi E ora Ci vediamo vicino Alla nostra XP farm Guardate che ho incontrato Mentre andavo Verso l'XP farm La nostra Pecora jab Pensavo Che si fosse persa Però Era da queste parti Allora Questa è la nostra XP farm L'avete già vista Come Come è sotto Come è la stanza E il procedimento Per costruirla Non mi piace tanto La struttura esterna Probabilmente La cambierò Farò Forse una specie di tempio Addirittura Pensavo Di costruire Una Piramide azteca Se non ce l'avete presente Magari vi farò vedere Com'è Ho andato a cercare Piramide azteca Pensavo di fare una cosa così Sta a voi Decidete voi Qui sopra E Vorrei fare una pixel art Ora vi porto Nella modalità creativa E vi faccio vedere Che cosa Mi piacerebbe fare Eccomi qua Sono nel mio mondo In creativa Dove provo le cose Dove faccio Le strutture Blah 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 Allora Ho sperimentato Questi tipi di pixel art L'ho trovato su internet Allora Questo è Praticano un teschio Con la lava dietro E Mi piace molto Poi ho fatto Questo qua Con i pannelli Di vetro rosso E la lava Mi piace anche questo Moltissimo Poi questo faccione Tipo Demoniaco Che ride Mi piace anche questo Davvero tanto E ce n'è un altro Dietro Che è fatto così Perché non c'è più Ah ecco Sì Perché Si era bruciato Eh porca miseria Non mi ricordo perché Ah no Forse è un'esplosione Non mi ricordo Comunque Non è importante E Queste sono Le pixel art Che vi sto proponendo Per la XP farm Per l'XP farm Ditemi Quale di questa Vi piace di più Allora Proviamo così Allora Il teschio Questo qua Lo chiamo La numero 1 Poi La numero 2 La numero 3 Che è questo faccione E la numero 4 Che è questa E Spero Vi piacciono E possiate Scegliere Una di queste Perché Mi piacciono Tutte Però preferisco Far scegliere a voi E ditemi anche Cosa ne pensate Se la struttura Esterna Volete che La La faccio diventare Una specie di Tempietto Un piccolo tempietto Oppure Un Una vera e propria Piramide azteca Abbastanza Grande Come ingresso Che ci porta giù E Io Magari Proverò a fare Delle prove Qua in creativa Qua nel mondo In creativa E poi le posterò Sulla mia pagina Di facebook E in Concomitanza Anche su quella Di google plus Quindi Se volete Tenervi aggiornati Anche con le cose Che faccio Guardate Sia la pagina di facebook Che quella di google plus Così Potete vedere I progressi Bene Torniamo Nel nostro mondo Lascio a voi La scelta Riguardante Una delle pixel art Se volete Posso anche farla Anche tipo Velocizzata Nel prossimo episodio Così vi faccio vedere Come verrà fuori E Lascio a voi Anche La scelta Se Preferite Che qua Faccio un Tempietto Oppure Una vera e propria Piramide azteca Ah ecco Vi parlavo Alcuni episodi fa Che qua Da ste parti C'è un laghetto Di lava Oltretutto C'è un buco Pazzesco qua Magari andrò a recuperare Un po' di cosette Non lo so Magari ci vado Off camera E vediamo Che cosa c'è Qua c'è un lago Non lo so Potremmo farci qualcosa Tipo Queste cose qua Tipo Farci cadere Le pecore No Niente Non ce ne verso E E vorrei iniziare anche La Costruzione Della vedetta Sopra l'albero gigante Mi è già venuto in mente Qualcosa in più Rispetto alle altre volte Ovvero Metterò Delle slab Bisogna incastrare Delle slab Che fanno da scalette Lungo Tutta la Il tronco Quindi dovrò fare Ancora un po' di lavoretti Perché Devo sistemare Togliere le foglie Devo Mettere a posto Tutti i blocchi di legno Quindi sarà una cosa Che farò Molto con calma Qua anche Andrò A fare altre prove Riguardanti Il design Riguardanti Il Il pavimento Perché verrà Tipo una specie di parco Una specie di parco Sì E Diciamo che La prossima puntata Avevo in mente Di Di fare La pixel art Oppure La faccio off camera E poi vi faccio vedere Come è venuta E Iniziare i lavori qua E anche La serra Per le coltivazioni Quindi Carote Patate Grano Eccetera Eccetera No Cetera eccetera No Perché mi sembra Che non c'è nient'altro Sì Non c'è nient'altro E Quindi Lascio a voi Diciamo la scelta Delle prossime cose Che volete Che vi faccio vedere Vorrei anche fare Un Saltino Nel nether Così Ci portiamo avanti Anche con Il progress Perché presto Faremo Un laboratorio E Poi faremo Una bella stalla Per il nostro cavallo Ce ne sono tante Di cose da fare Quindi Piano piano Faremo Tutto Quello Che ci va di fare Ho Anche Scogitato Un sistema Riguardo Al Al discorso Che vi facevo Nell'episodio Precedente Ovvero Ovvero Quando mi viene Voglia di Scavare In una determinata zona Mentre sono in esplorazione Entrerò In una modalità Particolare Quindi Questa Sarà una cosa Che vedrete Proprio Al momento In cui andremo A scavare Quando andremo In caverna In esplorazione Quindi Lascio a voi Tutte queste Novità E Mi raccomando Mettete mi piace Se vi è piaciuto Se vi è piaciuto L'episodio Vi ringrazio Per avermi mandato Quei disegni Fantastici E Se volete essere aggiunti Al tunnel degli iscritti Me lo scrivete Nei commenti E L'oggetto Che vi piacerebbe Incorniciare Quindi Per questo episodio È tutto Gioco Sporco Vi saluta Ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti